L'Enzo è una lavagna digitale per dispositivi mobile, iOS e Android. Si possono creare e condividere contenuti, lezioni, idee. E' possibile realizzare presentazioni, tutorial, assegnare compiti, commentare, evidenziare immagini e registrare. Come vedete ho inserito qui una foto istantanea. Posso sulla foto usare la penna per scrivere o per evidenziare delle immagini. Posso utilizzare diversi tipi di colore, anche della penna. Come vedete posso mettere dei puntini. Posso inserire sempre con la penna delle frecce. Una semplice barra degli strumenti dà accesso alle varie funzioni di editing e si possono creare più pagine con delle frecce di scorrimento delle pagine. Esempio ho aggiunto un pdf, un esempio di scheda valutativa da il mio Dropbox. Posso agire sul testo, ad esempio mettendo in luce, in evidenza alcune cose del testo. Posso aggiungendo delle frecce. Posso utilizzare un nuovo colore. Evidenziare e quindi rendere disponibile il documento ai docenti, ai miei colleghi oppure agli studenti. Posso anche scrivere naturalmente, annotare, ad esempio posso scrivere questo. Questa è una rubrica valutativa di dimostrazione. E naturalmente posso chiedere a chi la guarderà di analizzare. analizzarla con attenzione scrivendo il testo con esempio la penna. ecco fatto. Quindi Lenzo è un'ottima app da usare in tutti i momenti di UNEAS sia come docenti che come studenti. Nella versione free è possibile condividere sui social network e per mail. È disponibile una funzione embed. Nella versione premium è possibile la pubblicazione su YouTube. Grazie. 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 Grazie.